Il Napoli saluta la Champions, avanza in Barcellona che mancava nei quarti dal 2019-2020. Gli ottavi aveva superato gli azzurri con lo stesso risultato di questa doppia sfida 1-1. All'andata è 3-1, al ritorno in Spagna. Non è bastato il primo gol in Champions di Rachmani. Blaugana restano imbattuti contro i partenopei in sfide europee, tre vittorie e tre pareggi. Il Napoli, dopo aver pareggiato all'andata, in una sfida a eliminazione diretta, competizione europea è stato sempre eliminato.